Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6. Dal satellite osserviamo una depressione in via di formazione sulla penisola iberica ed è proprio questa perturbazione che innesca moti d'aria dal nord Africa verso lo stivale. Quest'aria è più tiepida, più mite e soprattutto dica di pulviscolo desertico in sospensione alle medio-alte e vuote. Nel corso di questo giovedì avremo stabilità, clima tardo, primaverile su tutto l'Abruzzo, cieli sereni ovunque, al più velati, specie in apennino, per effetto della polvere sariana menzionata poc'anzi, ma ovviamente non ci saranno fenomeni annessi. Le temperature stazionarie massime tra i 14 e i 17 gradi, qualche picco isolato di 18 o 19 gradi nel primo entroterra, minime ancora piuttosto basse, valori tra i 3 e i 9 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.